Raggiungo il tavolo ringraziando gli ospiti che tra poco arriveranno, ma è il momento della nostra pagina di politica dedicata alle elezioni con il segretario della Lega, Lega Bersalvini, Presidente, eccolo qua, buongiorno a Matteo Salvini. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Milo, certo che sedersi qua dopo le notizie che hai dato, pensavo non da senatore della Lega ma da papà, tra il femminicidio e il pedofilo che se ne vanta, ripensavo a quando abbiamo approvato per fortuna la legge sul codice rosso, grazie a Giulia Buongiorno, a Micek Lunzic, a tante donne, magari qualche donna non lo sa, adesso per legge, grazie a questa legge voluta dalla Lega e approvata al Parlamento, una donna che denuncia molesti, minacce o aggressioni, entro tre giorni deve essere convocata dal giudice, in modo tale che non passino mesi e quindi questa legge un po' di vite le salva, ovviamente non si può arrivare ovunque, però diciamo che un passo in avanti sulla tutela della vita delle donne fortunatamente negli ultimi mesi si è fatto. C'è anche un discorso culturale che poi magari affronteremo, insegnare il rispetto delle donne e quant'altro che non può essere semplicemente garantito dalla giustizia, però lei ha fatto una premessa, parlo da papà, allora mi consente di anticipare due dei temi che peraltro sono temi che appartengono al vostro programma elettorale, alla campagna elettorale di conseguenza, che sono giustizia e migrazione, allora da papà le chiedo un commento su questa lettera che ha inviato al quotidiano La Repubblica un papà, è un papà di un ragazzo di 19 anni che torna a casa una sera in metropolitana con un monopattino elettrico e c'è una, possiamo anche vedere, eccola qua, la DLS e insomma in grande sintesi si avvicina un extracomunitario, ha 24 anni questo extracomunitario, è armato di coltello, rapina questo ragazzo, lo accoltella tra l'indifferenza, devo dire, di molti coetanei. Per un caso fortuito, ferito e aggressore si ritrovano nello stesso momento in ospedale, quindi il ragazzo riconosce l'aggressore e dice guardate che è stato lui, interviene la polizia, lo perquisisce, trova il coltello, il giorno dopo questo ragazzo, 24 anni di origine egiziane, è a piede libero. Questa è giustizia. È a piede libero perché il giudice l'ha ritenuto non pericoloso perché non ha ucciso e ha solo ferito. Ecco qua, ovviamente poi uno che fa politica può proporre delle leggi, poi sta al giudice che si trova un 19enne in ospedale, che ha rischiato la vita, è un 24enne, poi per carità può essere straniero, può essere italiano, però se uno ha tentato di uccidere il prossimo non può essere fuori di galera al giorno. Dopo, questo vale anche per gli spacciatori. Qua siamo alle 2 del pomeriggio, ogni tanto riesco a guardarvi a Roma perché quando c'è la pausa dei lavori in Parlamento intorno a quest'ora accendo e so che ci sono fatti di vita quotidiana, mamme, papà, nonni, nipoti. Ecco, chi sceglie la Lega sceglie la battaglia contro ogni droga. Questo lo dico chiaramente. Ogni tanto qualche giornalista mi dice ma Matteo non dirlo perché magari perdi qualche voto. Chi se ne frega? C'è qualcuno che ritiene che ci siano delle droghe buone, delle droghe simpatiche, delle droghe che non fanno male? No. Io contro ogni tipo di droga da ministro, da senatore, da papà, da futuro presidente del Consiglio, da qualunque cosa sarò per me la droga è morte. E chi spaccia, perché è quello che è successo all'accoltellatore, succede spesso anche agli spacciatori perché c'è la legge sulla modica quantità. E quindi se ti arresta la polizia stanotte in stazione centrale a Milano stazione Termini a Roma, è capitato anche con tre etti di droga e trovi il giudice così, hippie, liberal che dice ma tre etti di droga magari erano a uso personale, alla faccia dell'uso personale e ti rimette in strada il giorno dopo. Ecco, se uno viene trovato con un coltello che ha rischiato di ammazzare sta in carcere, se uno viene trovato con della droga in mano sta in carcere, ma non perché la Lega è brutta e cattiva ma perché è pieno di giovani per bene, è pieno di immigrati per bene che non meritano di essere accomunati a questo qua. Da milanese poi con due figli a Milano, uno di 19 anni che piglia il monopattino e piglia la metro e una bimba di 9 anni ovviamente qualche telecamera in più a Milano, qualche controllo in più sulle metropolitane, ma penso alla 90-91 e penso a alcuni mezzi pubblici, ecco un po' di sicurezza in più io non vedo l'ora di portarla, a Milano e in altre città. La Lega annuncia l'intenzione di procedere all'assunzione di 10.000 nuovi agenti... Si possono nell'arco del 2023, non si sparano numeri a caso perché in campagna elettorale uno viene su Rai 2 ci penso io, votate Salvini e non ci saranno più reati. No, dei reati continueranno a esserci, io dico di meno quando ho fatto il ministro i reati calavano perché se assumi più poliziotti, più carabinieri, più agenti della polizia locale accendi le telecamere, è chiaro che diminuiscono i reati. Se blocchi gli sbarchi dei clandestini che in questo momento, prima di venire da voi ero col vice sindaco di Lampedusa, ne stanno arrivando a migliaia arriveremo a fine anno con 100.000 sbarchi irregolari in Italia. Non è normale, non è possibile quindi li abbiamo fermati, li rifermeremo. Detto questo e chiudo poi anche una questione di educazione perché come Lega abbiamo combattuto per portare l'educazione civica a scuola? Perché di quell'articolo che hai mostrato mi spaventa non solo l'immigrato 24 anni che ha coltello, ma i ragazzini che guardavano e poi una roba incredibile ormai filmano. Cioè se c'è uno che viene rapinato, se c'è uno che sta male per strada, se c'è un incidente stradale c'è qualche cretino che invece di chiamare il 112, invece di intervenire e fare il massaggio cardiaco, filma e poi metti sui social. Non mi ricordo quale scuola, questa settimana c'è stata polemica, ha detto ha vietato l'uso dei telefonini in classe, sono assolutamente d'accordo perché a scuola vai per studiare, per capire, per stare con i compagni e non per smanettare. Quindi non perché sono all'antica, all'età mia non c'erano i telefonini, ma tu entri in classe dalla prima alla quinta ora, fai lo studente. L'insegnante merita un po' di rispetto. Ci vuole un atteggiamento diverso rispetto alle baby gang? Cioè noi oggi spesso trattiamo le baby gang, che sono delle bande criminali, veri e propri, come delle ragazzate. Noi in realtà commettono dei reati anche gravissimi. Ci vuole anche in questo caso un cambio di mentalità. Deve diminuire l'età per cui puoi essere punito. Perché qualcuno dice, io tanto a 13 anni posso accoltellare, posso spacciare, ma posso prendere a sassate un carabiniere, tanto nessuno mi fa nulla. Quindi abbassare l'età in base alla quale se hai la testa per spacciare, picchiare, molestare una ragazza o aggredire un carabiniere, ne paghi le conseguenze. Poi noi abbiamo presentato una proposta come lega, mia firma. Mamma e papà pagano i danni. Gli agenti di polizia, l'ambulanza, ripulire quello che hai sporcato. C'è qualcuno a casa che ha sbagliato missione educativa. Perché se mio figlio o mia figlia non l'ha mai fatto e spero mai lo faranno, vanno in giro a fargli scemi, a disturbare qualcuno, a imbrattare o a far casino, non aspetto il giudice. Sono io che faccio il papà e tiro due schiafoni. Con tutto rispetto per il telefono azzurro, bianco, verde, perché li ho presi io da ragazzo. A volte ci sta. Si può dire? Si può dire? C'è un ragazzino di 13 anni che torna a casa dopo aver molestato una ragazza e dice guarda non va bene, non è educato molestare la ragazza. Amico mio, ti insegno a stare al mondo. Spero di non passare i guai, ma una volta quando tornerai a casa che ti eri fatto male, tua madre cosa diceva? Non ti lamentare perché ne prendi un doppio. Quando tornavo a casa con la nota della maestra, non ero io a dire che è colpa della maestra. Mia madre e mio padre se la prendevano con me, se facevo casino in classe. Il problema sono quelle mamme con il papà che adesso dico il povero figliolo, cosa vuoi che sia? Stava spacciando droga fuori dalla scuola. Queste sono alcune immagini di Milano Bella da Dio, che è questa pagina sui social che mostra spesso delle risse spaventose tra a volte giovanissimi, a volte magari un po' meno giovani che denotano il degrado delle grandi città. La cosa bella però è che la stragrande maggioranza dei ragazzi però sono ragazzi e ragazzi per bene. Questa è una minoranza che va isolata, va condannata, che poi se mette le sue gesta su TikTok va condannata. Non sei un fenomeno, sei un poverino. Io ho visto due ragazze, ma ho anche discusso fra virgolette, da cinquantenne, che erano in treno e fumavano in faccia a una signora. E poi hanno pubblicato le loro eroiche gesta di fumatrici in faccia a una signora di una certa età sul treno. Io ho scritto, ragazzi, non siete ragazze migliori. Poi se ci parli con i ragazzi, la capiscono. L'importante è che a casa e a scuola ci sia qualcuno che insegna la buona educazione. Allora, prima di parlare di immigrazione, perché il tema del decreto di sicurezza l'abbiamo solo accennato, però mi consenta. Noi lo facciamo con tutti i leader che vengono nel nostro studio. Questa bambina, non c'è solo lei, si chiama Denise Pipitone, ma c'è anche la piccola Celentano. Ci sono tante vittime di reati, di crimini, di ingiustizie che oggi vengono abbandonate dallo Stato. Questa è una bambina che è stata rapita nel 2004. Parliamo di Denise. Lo Stato, a un certo punto, ha creduto di aver identificato i responsabili, li ha mandati sotto processo, ha mandato in particolare una persona sotto processo, assolta per insufficienza. L'ho seguita da voi, l'ho seguita per anni, l'ha visto. Lo Stato ha finito. Nessuno cerca questa bambina come nessuno cerca la piccola Celentano e altre vittime. È giusto, secondo lei, che la vittima rimanga da sola? Lo Stato andrebbe a dire, guarda che noi ci siamo, cioè noi siamo accanto a te in questo percorso di sofferenza. Perché non si può cambiare? Questo era uno dei temi di cui mi ero occupato da Ministro dell'Interno, perché c'è un ufficio che dipende dal Ministero dell'Interno, sulle persone scomparse, e ci sono dei numeri incredibili, quotidianamente. Decine e decine di persone. Poi Denise è un esempio. Fra i mille... La piccola Celentano, possiamo farne davvero tante? I 10.000 poliziotti e carabinieri di cui si parlava prima non servono solo a Milano, a Roma, a Napoli, a Torino, a Venezia, a inseguire gli spacciatori, gli scippatori, gli stupratori. Servono anche a ricercare ragazze e ragazzi scomparsi. Anche qua il ruolo della giustizia però è fondamentale. Perché come il poliziotto ti arresta lo spacciatore e poi se lo trova in strada due giorni dopo. Come ti arresta l'accoltellatore se lo trova in strada il giorno dopo. Anche qua io ricordo il processo. Se ci sono elementi, se ci sono... Poi per carità uno è innocente fino a prova contraria. Le indagini devono proseguire, non possono fermarsi. Soprattutto se in partenza le indagini, come in questo caso, mi sembra avessero sbagliato appartamenti, avessero sbagliato indirizzi. Vedo che conosce molto bene la vicenda, ma non voglio monopolizzarla su quella perché... Allora facciamo un passo indietro per farne poi due avanti. Decreti sicurezza. Quanto è importante oggi per la Lega ripristinare... Fondamentale. Domenica si vota. Non faccio campagna elettorale, quindi a me interessa che chi è davanti al televisore si informi e domenica voti. Poi se vota Salvini, vota Pinco, vota Pallino, l'importante è scegliere, decidere, perché poi la politica esce dal televisore e decide a quanti anni va in pensione o non va in pensione, perché noi riteniamo ad esempio che la legge Fornero sia una legge ingiusta, sbagliata, da cancellare. E la legge Fornero torna in vigore il primo gennaio. Quindi chi non sceglie va in pensione a 67 anni. Chi ritiene che aver lavorato per 41 anni sia sufficiente, ha il primo punto del programma della Lega e questo, a zerare la legge Fornero. I decreti sicurezza sono già pronti, sono già scritti, sono stati tolti dal PD quando è andato al governo, costano zero allo Stato e nel primo consiglio dei ministri, dopo le elezioni, se la Lega sarà al governo, ovviamente, perché se la Lega non è al governo, possiamo ritrovarci qua a Rai Due e parlare di quello che mi piacerebbe fare, se la gente sceglie, vota e mi dà la forza di andare al governo, decreti sicurezza. Due minuti, costo zero. Non è solo lotta all'immigrazione clandestina, perché decreti sicurezza, ad esempio, inaspriscono le pene per mafiosi, camorristi e indranghettisti, perché dal Ministero dell'Interno dipende l'Agenzia dei beni confiscati alla mafia. Io ricordo con gioia il giorno in cui andai ad abbattere la villa dei Casamonica in una periferia romana, che adesso è un giardino aperto ai bimbi di quel quartiere, quindi perseguire, svuotare le tasche, i portafogli di mafiosi, camorristi e indranghettisti è qualcosa che con i decreti sicurezza si può fare più in fretta, e poi l'immigrazione. Io sono a processo, Milo, tu devi sapere che stai ospitando in diretta un tizio che è a processo. Io sono un imputato, rinviato a giudizio perché l'accusa è di sequestro di persona, perché da Ministro ho fatto quello che avevo promesso di fare se mi avessero votato, ovvero sia bloccare gli sbarchi degli immigrati clandestini da navi straniere. Ho bloccato una nave spagnola che si è rifiutata ad andare a Malta, si è rifiutata ad andare in Spagna, ha voluto sbarcare i clandestini in Italia, invece di mandare a processo il comandante spagnolo che non è venuto andare in Spagna, vado a processo io per sequestro di persona. Comunque, siccome se io do una parola mi piace andare fino in fondo, ci sono 5 milioni di immigrati regolarmente presenti in Italia, e in molti magari ti stanno guardando, sono i benvenuti, pagano le tasse, mandano i figli a scuola, portano rispetto e sono integrati. Quindi l'Italia è casa loro. Il mio problema sono le centinaia di migliaia di clandestini che sono qua a far casino, a spacciare, a scippare, a molestare, magari prendono il reddito di cittadinanza, alle spalle di qualcuno che si alza alle 6 della mattina. Ecco, di questi non abbiamo bisogno. I decreti sicurezza impediscono l'ingresso nelle acque territoriali italiane delle navi straniere che non ne hanno autorizzazione, come in tutti i paesi al mondo. Se vuoi andare in Svizzera chiedi il permesso, se vuoi andare negli Stati Uniti, in Australia, in Nigeria, in Marocco chiedi il permesso, non si vede perché in Italia qualcuno a sinistra ritenga che tutti hanno diritto di entrare, e di sbarcare, di chiedere la casa, di chiedere il lavoro, di chiedere il sussidio, di chiedere il bonus. Chi sceglie la Lega fa una scelta precisa. Prima vengono gli italiani. Io lo dico prima e gli italiani per me sono anche coloro che sono arrivati dall'estero tanti anni fa regolarmente e sono a Milano, a Roma, a Torino e sono perfettamente integrati. Allora, a proposito di governo, oggi la Presidente Meloni ha detto la mia squadra, la squadra di governo è pronto, io i nomi dei ministri, non ha detto la squadra di governo, io i nomi dei ministri li ho, ma non lo dico per scaramanzia. I nomi dei ministri della Lega ci sono già... No, io aspetto il voto degli italiani, perché tutti dicono il centrodestra ha già vinto. No, no, io sono un tifoso del Milan. E ricordo una finale di Coppa dei Campioni dove alla fine del primo tempo andammo negli spogliatoi in vantaggio per 3-0 e qualcuno già preparava i festeggiamenti, risultato abbiamo perso ai rigori. Quindi le elezioni sono quelle di domenica, non sono i sondaggi, le interviste sui giornali. Per me è un piacere essere qua, ti dico perché di solito quando mi invitano ad altre trasmissioni ci sono sei persone che urlano, che cavallano, che si interrompono. Qua invece riesci a esprimere civilmente un concetto, poi se uno guarderà i due e dice no, non mi piace, io ritengo, chi sceglie la Lega sceglie di cancellare la legge Fornero e di arrivare a quota 41. Sceglie ad esempio, a proposito di ragazzi, visto che parlavi di giovani, di togliere il numero chiuso per medicina. Mancano medici e infermieri in tutta Italia. Perché dobbiamo impedire a 50.000 ragazzi ogni anno di accedere alla facoltà di medicina? Togliamolo questo numero chiuso per medicina. Cioè chiudiamo i confini agli indesiderati, ai clandestini e apriamo le porte delle università. Alcune idee di ministri ce li ho. Cioè la Lega in passato si è occupata di agricoltura ad esempio, perché è fondamentale difendere il nostro latte, i nostri prodotti, il nostro mare. L'abbiamo fatto con Luca Zaia, l'abbiamo fatto con Gianmarco Centinaio e mi piacerebbe come quello che mangiamo è quello che siamo. Difendere i prodotti italiani, gli agricoltori italiani. Tu parlavi di giustizia, una come Giulia Buongiorno, penso che la giustizia la ribalterebbe da così a così e i processi sarebbero un pochino più veloci perché adesso se uno comincia un processo ed è parte l'ESA magari gli danno ragione dopo cinque anni, ma se ti danno ragione dopo cinque anni sai che ragione hai. Però ripeto, ho troppo rispetto per il voto degli italiani per dire chi fa cosa. Se gli italiani sceglieranno la Lega domenica le idee ce le ho abbastanza chiare. Sul tema bolletti ad esempio, su questo la vedo io con Giorgia e Silvio ho stretto un accordo e per cinque anni se vinciamo governiamo perché abbiamo un'idea comune d'Italia e abbiamo un patto per evitare cambi di casacca e casini degli ultimi anni. Quindi se vince il centrodestra per cinque anni ci governa insieme. Devo dire che rispetto a Giorgia e Silvio sul tema delle bollette della luce, che è l'emergenza vera di oggi per milioni di italiani, io la vedo in maniera un po' diversa perché qualcuno dice che si può aspettare che non è il caso di mettere dei soldi adesso perché sarebbe nuovo debito. Io dico no, è meglio mettere tutti i soldi necessari adesso anche a debito pur di salvare case, fabbriche, negozi, aziende agricole. Perché se non mettiamo dei soldi adesso per bloccare gli aumenti della luce che sono spaventosi, stanno triplicando o quadruplicando, noi rischiamo di far chiudere negozi, panetterie, bar, ristoranti, fabbriche, stalle. Quindi è meglio mettere dei soldi adesso per far lavorare la gente o aspettare che intervenga l'Europa e se non interviene l'Europa cosa facciamo? C'è la proposta di togliere l'IVA su alcuni prodotti che sono prodotti essenziali, tra cui proprio il pane, i prodotti di prima necessità. Se uno si può permettere di pasteggiare a caviale e champagne, buon per lui, penso che pagarci l'IVA non sia un disastro. Però togliere l'IVA su pane, latte, frutta e verdura è qualcosa che si può fare e ti aggiungo una riflessione che mi hanno fatto questa mattina dove ho fatto una riunione con alcune persone che vivono in montagna sia a nord che a sud. Il pellet. Ci sono milioni di italiani che hanno messo la stufa a pellet, sia in azienda che a casa, perché è più ecocompatibile, più green, si risparmia. Il pellet ha assunto prezzi pazzeschi. Ecco la richiesta della Lega e costa 80 milioni. Non è che io venga qua su Rai 2 a promettere soldi per tutti. No, non ci sono soldi per tutti. Però ridurre l'IVA sul pellet, che per molti significa riscaldare casa propria, il proprio negozio quando comincia a far freddo e adesso comincia a fare freddo, costa alcune decine di milioni. Quindi lo Stato, su migliaia di miliardi, può permettersi di rinunciare a qualche milione pur di abbassare il costo del pellet da riscaldamento? Sì, secondo me sì. Puoi tagliare qualche spreco. Parlavamo di reddito di cittadinanza. Lo dico una volta per tutte qual è l'idea della Lega. Si lascia il reddito di cittadinanza a chi non può lavorare. Minori, disabili, anziani, chi non ce la fa. Chi lo sta percependo anche da due anni e può lavorare e dice di no a una offerta di lavoro, per me perde qualsiasi privilegio. Quindi al primo no cade il... Reddito di cittadinanza serve per aiutare chi non ce la fa e chi non può lavorare ed è sacrosante e nessuno lo tocca. Chi può lavorare un 49enne che ha perso il lavoro perché capita, è stato sfortunato, si è rotto una gamba, ha avuto un brutto divorzio, l'azienda è fallita. Va aiutato. Lo Stato ti aiuta per qualche mese, ci mancherebbe altro, ma se poi ti chiama l'azienda Milo Infante e dice puoi venire a lavorare da me in gelateria, in pizzeria, a raccogliere l'uva, a far vendemmia o in fabbrica, io dico no guardi, non mi piace, non mi interessa, non gradisco e allora mi sembra che quei soldi vanno dati a qualcun altro. Allora guardi questo post, è un articolo di questa DLS, è un articolo di un giornale che racconta il dramma che stavi vivendo a San Patriniano, che è passato a 70... no questa è un'altra roba, però ascoltatemi perché è importante. Questo riguarda le macchine. Questo riguarda le macchine che adesso avete lanciato a questo punto... vabbè, no, adesso la regia è arrivata sul... A San Patriniano mi fa piacere perché è una delle realtà più belle di lotta alla droga. Sì, però il problema è che si sono trovati, 730 mila euro di bolletta un anno fa ne hanno pagati 70 mila. Io ci ho parlato con quelli di San Patriniano che hanno sempre una grande dignità, però dicono attenzione che noi... Quindi domanda... Come facciamo a pagarli questi soldi? Se tu aprissi adesso in diretta una casella mail, io di sera, anche stasera, io dopo qua vado a Sassuolo in provincia di Modena alle 18 e poi vado in provincia di Verona a San Giovanni Lupatotto alle 21, poi arrivo in albergo verso mezzanotte e la sera faccio la diretta su TikTok per parlare con i ragazzi, per capire e mi mandano le bollette. Io sono convinto che se tu dessi adesso una casella mail... Sì, arriverebbero, credo. Sì, arriverebbero centinaia di bollette, il bar, il ristorante, il parrucchiere, il gelataio, la fabbrica, le vetreria. Quindi le case di riposo, le scuole... Sospedale Cardarelli ha lanciato l'allarme, loro hanno raddoppiato le... Quindi è urgente intervenire adesso con tutti i soldi che servono, noi li abbiamo stimati in 30 miliardi a debito per salvare San Patrignano, le fabbriche e i negozi, sì o no? Secondo me non si possono aspettare due mesi, perché chi dice che si possono aspettare due mesi rischia di lasciare a casa un milione di italiani. San Patrignano la bolletta la deve pagare, adesso chiederanno di San Patrignano come altre comunità, ma la paga adesso, chiederanno di l'azione. Sulle utenze domestiche, le famiglie, magari qualcuno non lo sa perché non legge i cavilli della bolletta, noi l'abbiamo chiesto come lega, si può rateizzare fino a 10 rate, però riguarda solo le famiglie, riguarda le case, non riguarda i negozi, le associazioni, San Patrignano, le fabbriche, quindi tutta Europa sta mettendo dei soldi per bloccare gli aumenti delle bollette, sì, Milo, in Francia la bolletta non può aumentare più del 4%, mentre a Londra ci hanno messo non 30 miliardi, 160 miliardi e le bollette sono ferme per due anni, quindi domanda di Matteo Salvini, ma è solo la Lega che chiede di mettere dei soldi, li mette l'Europa o li mette il governo, non mi interessa, l'importante è bloccare gli aumenti, altrimenti queste sono le bollette di agosto, quando ti arriva quella di settembre è peggio e quando ti arriva quella di ottobre è peggio ancora, quindi prevenire è meglio che curare, se mia figlia mi dice papà ho fame, mi dai 3 euro per un panino, io glieli do a debito o non a debito, non le dico, no guarda Mirta, tienti la fame fra due settimane e ne riparliamo, quindi io sono pagato, perché il mio stipendio me lo pagano gli italiani, per proteggere gli italiani, il lavoro, la salute e le pensioni degli italiani, quindi la posizione della Lega è netta, mettere adesso i soldi, si può? Sì, lo stanno facendo tutti, perché non si fa? Chiedilo agli altri ospiti che verranno qua nei prossimi giorni, io non l'ho mica capito, non l'ho mica capito. La Lega oggi ha proposto, lei oggi ha proposto, un referendum popolare sullo stop alla produzione dei veicoli benzina e diesel dal 2035, si rilaccia in parte con la DLS che abbiamo visto prima, con lo stop, in questo caso un po' più vicino però, dal 1 ottobre in una città come Milano dell'area B, per i veicoli diesel Euro 5 e benzina Euro 1. Diciamo che chi viene a Milano durante il giorno non ci viene per hobby, per carità, è bella, è la mia città, la amo più di ogni altra città al mondo, però se uno deve andare a vedere una bella città, magari va a Venezia, Roma, Firenze, Palermo, a Milano tendenzialmente ci viene, se hai un motivo. Cosa succede dal 1 ottobre? Non lo sapevo, me l'han detto i commercianti e mi sono informato, imbestialito, che dal 1 ottobre, per scelta del sindaco, chi ha un Euro 5 diesel non entra più a Milano per lavorare perché inquina. Quante sono queste macchine? Un milione. Cioè non stiamo parlando della Fiat 128 di mio nonno degli anni 90 dal cui tubo di scappamento uscivano i funghetti neri, stiamo parlando degli Euro 5 diesel di qualche anno fa, ma io mi domando se uno ha l'auto o il furgone di 5 o 6 anni fa e non hai soldi per cambiarli oggi 21 settembre. Tu come gli aiuti la vita? Lasciandolo a casa a piedi, non si aiuta l'ambiente. Quindi noi abbiamo chiesto al sindaco Sala, c'è il problema delle bollette, c'è il problema dell'inflazione, dei mutui, lasciamo lavorare la gente, cioè fermare ai confini di Milano, da tutta Italia, auto e furgoni dal 1 ottobre, Euro 5 diesel è un dramma. Il RIC tradotto, se uno ha i 50 mila euro per comprare la macchina al furbone nuovo, vieni a Milano a lavorare. Se uno non ha i 50 mila euro per cambiare macchina, sta a casa e perde il lavoro. Vi sembra che si aiuti l'ambiente così? A me sembra di no. Allora, segretario, noi abbiamo un tempo che è abbastanza preciso. Parcondicio, non voglio crearvi problemi. Già vado a processo io, non voglio mandare a processo Per carità, però una battuta me la consenta. Lei ha proposto di togliere il canone della Rai e arriva tra le tante reazioni. Registriamo oggi quella di Letta che dice Salvini fa gli interessi di Mediaset, è il portavoce degli interessi di Mediaset. Cosa risponde il segretario del PD? È un giorno Salvini è un agente segreto russo, il giorno dopo fa l'interesse di Mediaset, domani sarà un infiltrato canadese o giapponese. No, io rispondo solo e soltanto al popolo italiano, io ritengo che la Rai faccia un enorme ed eccellente servizio pubblico, però sulla bolletta della luce grava anche il canone Rai per 90 euro. Sì, in questo momento per molte famiglie quei 90 euro possono fare la differenza. Sì, si può aumentare il tetto di pubblicità che la Rai, cambiando la norma, può incassare, perché ovviamente se fai dei vecchi programmi incassi tante pubblicità. Oggi c'è un tetto, non puoi superare i 700 milioni di euro di pubblicità. Ecco, io penso che alzando il tetto pubblicitario, tagliando magari qualche spreco che non riguarda voi, ma qualche stipendio da milioni di euro, io penso che si possa risparmiare. Ecco, io penso che il servizio pubblico potrà fare ancora tanto senza gravare sulle spalle dei cittadini. Io ringrazio Matteo Salvini, Lega, per essere stato con noi, segretario della Lega Salvini Premier. Grazie per essere stato con noi. Abbiamo quanti, lei riesce a leggere quel cartello, io non riesco mai. Se mi metto gli occhiali, forse sì. Neanche con gli occhiali. 40 secondi di pubblicità. E vedi che c'è la pubblicità. No, no, ne abbiamo, ne abbiamo, ne abbiamo. Grazie a Matteo Salvini. Torniamo fra 40 secondi. Grazie a Matteo Salvini.